E bella a tutti ragazzi, io sono Minematte e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo in un video di Fortnite Dopo il video di prima con mio papà, ecco qua il video Faccio una partita in singolo Raga, mi metto la nuova skin che è un botto da 3 yardone Allora, cerco di fare una bella partita Perché non voglio fare come prima che ho perso quasi subito Perché 27 è un posto, tipo Cerco di fare qualcosa di buonino Tanto guardo che mi hanno mandato alcuni messaggi No, ragazzi C'è un mio compagno che ha trovato Energetic in una cassa minuscola Oldo, io ti saluto C'hai una fortuna che te la rubo Cioè io c'ho Energetic per il pass Ora che un'altra, magari se riesco Che ne dite se vi porto un video di Brawl Stars? Potrebbe essere un'idea per canale Però sicuramente se vi porto il video di Brawl Stars O mercoledì Se vi porto il video di Brawl Stars non si sente l'audio Io andrei a parco Più meno qua Voglio io fare le partite safe senza morire Perché lo scorso, cioè ho fatto adesso Ho fatto un video Che ero con Otrac Solo che ci aveva tipo 6 o 7 persone in casa Che faceva un casino Quindi l'ho dovuto mutare Lui mi parlava Non se n'era accorto Poi praticamente Abbiamo perso subito Tre volte di fila Quindi ho detto Otrac Non ti arrabbiare però Non basta E' questa qua Perché Non ci sono ancora andato Ok Otrac non ti arrabbiare Ma io concludo col video Perché Fai un po' casino Poi non puoi sempre andare lì E quindi l'ho espulgiuto No raga Mi ha rubato la casa Oh mami Buongiorno mami Sto facendo ancora un video Ok E non l'avrai No 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 Sto facendo un video Oh Oh Certo che mi pare Che abbia senso La missione che devo fare Elimina Cinco giocatori Cioè almeno la famiglia Elimina cento giocatori Vediamo Io spero di trovare Un m6 Un vampa Qualcosa a distanza Sembra una canzone Oh raga Basta con le mitragliette Rompoletto Bello è avere armi d'oro C'è qualcuno che mi vuole Intervi in casa Ho giusto qualche sentimento Che qualcuno mi vuole Mentre in casa Raga Non è per niente Buggato Ovviamente Ovviamente non morirò Neanche sto a dirvelo Ecco la mia fortuna da principiante Qualcuno Il bambino Non piange Non va bene Non c'è nessuno sponsor In questo video Io vorrei fare Degli sponsor Tipo Gli sponsor A dei succhi Perché ci sono Dei succhi nel mondo Che sono tipo I succhi più buoni Al mondo Tipo ora Non faccio Se non mi escono sponsor Che poi Non esistono Né in cielo Né in terra Però io vorrei fare Qualche sponsor Una volta Perché nel mondo Esistono succhi Buonissimi Cioè Lo sapete come Gli sponsor Non sono fighi Perché Tu dici Ah bevete questo succo E ti danno Un botto di soldi Quindi Oh Se qualcuno mi vuole Sponsorizzare Non è che piangio Cioè raga Ma che missioni No No Devo finire con la missione Di uccidere persone Così arrivo al 60 E mi porto E mi Porto Cioè Mi prendo kit Una volta esisteva Fortnite Che era un gioco bello Poi hanno creato Fortnite 2.0 Che era un gioco Ancora più bello Poi hanno creato Fortnite Dell'epic Che faceva schifo Scherzo Normalmente Certo che Mi riportate Il vecchio Fortnite Con la gente No Da me Che piangio Mi chiedo Mi chiedo No Perché Ma perché Mi dovete rompere le palle Femery friendly Prima ho killato una persona Che era in macchina E mi credevo Fighissimo Infatti ho pianto Perché ho dovuto Chiudere il video Con la con Outrack E a capire Dove cacchio stai Ti killo pure Ti pongo Fino alle sofferenze Amico mio Eccoti Belloccio della nana Seppure scudato Seppure scudato Ah no Non è che Non è che Se è scudato Se Pass level Cosa C'è Un chilo Cinque persone Trentacinque mila Trentacinque mila Punti Per killare Cinque persone Raga mi sa che Faccio una termissione Cinquanta persone Ci sto pure Cioè capitemi Che Stanno iniziando Ad esagerare Però Cinque persone E trentacinque mila Di esperienza Cioè uno Arriva al livello Cento In tre minuti Comunque raga Non mi Non mi insultate Perché non sono Al livello cento E già sapete Il perché Perché non gioco Da quanto Da quanto Non gioco Quindi Non mi rompete Le bale Che comunque Non è che tutti Giocano tutto il giorno Come fate voi Eh Amici miei Ora Io come lo ripeto Per i fan che vogliono Ditemi nei commenti Se secondo voi Andrebbe Mi vorrei vedere Una volta con voi Su Discord Andare verso Borgo Più o meno Che c'è Anche Cosa dei Ritorno in mente Senti quant'è Parola Ma se non Bisogna fare Per questa casa Che culo Oh Che bello Filmarlo Quando vieni Una macchina Raga La Lamborghini È esageratamente Veloce Ok che La Lamborghini Però Sentite colpi Di lancerati Di lancerati C'è perché Ah Andate per te Frena 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 Ho sentito qualcuno Non so voi Ma qua qualcosa Mi puzza Carburante Bella Voi Attento Per Mentre Nobito Povera Raga Faccio la Fulbata Questo è il Chiaming Dello slurp Giusto Eccolo Grazie mille Amici Ma perché Tutti hanno Così poco Carburante Che era Che era Palesemente Un bot Io mi allontanerei Da questa Macchina Era Palesemente Un bot No Che pizza Vabbè Anche se Ha poco Ha poco Di lontino L'ho Di tutta Oh mamma Io me ne vado Buon giallo Ma secondo me Sono l'unica Persona In sto gioco Che vede Fortnite Come un divertimento Perché Fortnite È Una competizione Quello Che l'altro giorno Prima L'altro giorno Ieri Prima di partire Dalla montagna Per tornare a Milano Stavamo Facendo Un giro Con i monopattini Perché ho Un monopattino Allora Dico agli altri Raga Seguitemi Che vi faccio vedere Una strada Non è una competizione Ok E tutti Che si mettono A correre Con noi Dei matti Non è una competizione Che si buttano giù Da un dirubo Uno addirittura Cade Si è quasi Spaccato la gamba Per arrivare Per il mo È arrivato Ultimo Spaccato la gamba Non è Ironico Per dire Mi si è fatto malissimo Proprio quasi Si è spaccato la gamba Ma raga Non so Ma il mio Lutto Mi piace Ma questa Com'è che si chiama Sabbie sudate Mi ricordavo il nome Sono proprio Un proraga Di sto gioco Io voglio indietro Il mio bello Scar Di una volta Una volta Lo scar Era più bello Non so perché Ma per ovvi motivi Mi piace più Farsi Nel tuo vecchio Allora Teoricamente Dovrei poter Vedere qualcuno Da qua Se non sono Cicco Come una banana Ok Mi sembra di non vedere Nessuno Io vorrei Buildare Ma se build Mi faccio vedere Se non build Mi Killano Quindi non so Mai cosa fare Mi muovo Faccio così E via Comunque Questo 81 Di shield Non mi piace Cioè Quello là Poteva anche Non hittarmi Lui neanche Obbligato Perché era Palesemente Un bot Farsi tirar Così Da una mitraglietta Cioè Pesante Poi non buildava Io voglio Un po' di mazzi Lascio 50 Oh Raga Era un pesce Mmm Non ne sono sicuro Eh Dittemi nei commenti Se era un pesce Certo che Sono proprio simpatico Allora Se Avete una giornata Brutta E vi volete Incacchiare Raga I miei contro te Sono I miei youtuber Preferiti Secondo me Sono i più bravi Al mondo Ok Ditemi Quanto siete Arrabbiati Da uno A ventimila Secondo me Uno mi scrive Ventimila e zero Uno Quello là Non mi ha visto Cioè Io ho spaccato L'albero Non mi ha visto Raga Raga Secondo me Sono una Lobby Di bot Non lo dico Però Perché mi gufo L'avvertita Poi trovo Ninja Una volta Un amico Per dire Una bugia Ha detto Un hacker Mi ha ucciso Ma Noi giochiamo Nella play 4 Da pad Quindi è impossibile Perché Non esistono Gli hacker Da pad Non so perché Ma boh Cioè Avevo quella Siamo Siamo in 13 persone Ma cosa Oh oh Raga Se questo non è un bot Se questo non è un bot Io sono Gesù Ok Ciao ciao Oh A quanto pare Mi ricordo Come studiata Dai No Non mi ucciderai Tu Mamma mia Raga Aveva la Thompson Raga Che loot Che aveva Dimmi che avevi Delle cure Per favore Meno male Meno male Meno male Che aveva Delle cure A sto tipo Che vi dico Che vi dico a fare Che sono tipo La persona più Scioccata al mondo Di averlo chillato Non mi sento più Raga Raga Siamo in 5 La devo smettere Di dire Raga Però siamo in 5 Raga E ho pochi Ansias Voglio fare la vittoria Per favore Cos Cos No No Da dove No Raga Ma questo è un hacker Come ha fatto a pigliarmi da lì No 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 Io me lo aspetto Come ha fatto a pigliarmi da lì Ma me lo spiega qualcuno No 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 Ma io mi guardo la partita No Raga Sono un hacker Secondo me è un hacker Perché non mi puoi prendere da lì a caso Voi avete visto Era girato Mi ha cecchinato Da girato Quella è l'inbot O poi ha pure la modalità anonima Vabbè raga Io non lo so Faccio un altro video E vi dico se poi alla fine lo erano Io chiedo qua il video e vi do la clip Ciao